Musica Durante le mie lezioni in classe non ho mai parlato della lega ansiatica. Non si sa con certezza quando nacque questa lega. Di certo il documento imperiale che ne sanciva alcuni privilegi, il primo documento che ci è stato tramandato, risale al 1161 e fu siglato da Enrico III il Leone. E' soltanto il primo documento scritto in nostro possesso però, quindi veniva a sancire una realtà commerciale già esistente, quella delle Anse. Anse in tedesco ha vari significati, fra cui unione, lega. Le città della lega ansiatica, perciò, presentano delle somiglianze sia con le repubbliche marinare, per l'intraprendenza commerciale, sia con i comuni, per il desiderio di indipendenza politica dal centralismo imperiale. Nel momento di massimo splendore appartenevano alla lega circa 200 città, divise in 16 nazioni differenti, e via deriva anche l'ordine dei cavalieri teutonici, che era schierato più o meno nei pressi dell'attuale Prussia. Nel videogioco The Patrician, ambientato nell'Europa del Nord durante il XIV secolo, c'è un realismo sorprendente. Parlo delle ultime versioni, ovviamente, e non di quella degli anni 90. Se guardiamo le imbarcazioni, per esempio, vediamo che hanno un solo albero, massiccio, e quindi di conseguenza una sola grande vela centrale. Questa imbarcazione è la COCCA, la tipica nave da carico utilizzata per i commerci durante il Medioevo. Se guardate in alto a destra, c'è una mappa con la Danimarca, la Germania, il Belgio, l'Olanda, e tutto il Mar Baltico, che sono le zone più interessate dalle città della Lega. Al centro di questa città si svolge un mercato, proprio davanti alla cattedrale, e a sinistra c'è un cantiere navale, in cui si scorge l'armatura in legno di una cocca. Le città della Lega erano capitanate da Lubecca, che era la più importante fra le Anse, e proprio come i comuni, dovettero lottare per la propria libertà. Si allearono sia contro Valdemaro IV di Danimarca, nella seconda metà del XIV, sia contro Eric I, agli inizi del XV, e vinsero e rimasero indipendenti. Altra caratteristica di queste città portuali della Lega Anseatica erano gli enormi magazzini. A D'Amburgo, dal 2015, esiste un intero quartiere attraversato da canali, e questi magazzini enormi, costruiti con mattoni di colore scuro, sono dal 2015 patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. La Lega Anseatica declinò a partire dalla fine del XV secolo, e una delle ragioni del declino fu la scoperta delle Americhe, che coincise con l'affermazione dei grandi regni, Spagna, Inghilterra, Francia, Svezia. Questi regni, politicamente più organizzati di una lega di città indipendenti, volevano accaparrarsi il controllo e il monopolio dei traffici col nuovo mondo. Non tutte le Anse, però, persero la loro autonomia con la nascita degli stati nazionali durante il corso del XV secolo. Hamburgo è ancora oggi una città che gode di una propria autonomia all'interno della federazione tedesca, e costituisce un land a sé. Qui vedete, per esempio, il motto della città di Hamburgo, in caratteri dorati proprio sulla torre comunale. L'orgoglio ansiatico è presente persino nelle targhe automobilistiche delle antiche città dell'Ansa, che infatti fanno precedere la lettera H all'iniziale del capoluogo, Hamburgo, Brema, Lubecca, Wismar, Strassland, Greifswald. Grazie a tutti.